L'idea di sviluppare un cortometraggio dedicato alla leucemia melode cronica è nata insieme all'associazione italiana Leucemie circa la necessità di poter mettere a disposizione nuovi strumenti divulgativi perché c'è grande sete di conoscenza e questo rientra chiaramente nella responsabilità dell'azienda, comunicare sulla malattia oltre che investire in ricerca clinica per sviluppare potenziali candidati clinici che possano chiaramente permettere la risoluzione di problemi ancora oggi insoddisfatti. Parlando di leucemia melode cronica ovviamente c'è una grande esigenza di divulgare benché i progressi della scienza sono stati tali e tanti da poter addirittura oggi parlare di guarigione.